Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Perfect Server. Oggi daremo seguito a un video che ho registrato qualche mese fa in cui vi illustravo come assemblare un personal server domestico o un NAS in cui archiviare essenzialmente i propri dati o virtualizzare macchine virtuali o container per eseguire svariate operazioni. Installeremo in particolare il sistema operativo Proxmox Virtual Environment, un sistema operativo basato su Linux che ha origine dalla distro Debian. Questo sistema operativo è open source ed è gratuito nella variante Community Edition e si propone come alternativa gratuita ad esempio al più gettonato VMware ESXi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ora vi faccio vedere come installarlo e come l'ho configurato sul mio personalissimo server. Per prima cosa dobbiamo procedere al download della ISO di Proxmox e per farciò andiamo su www.proxmox.com e una volta atterrati nella home page apriamo la voce Downloads cliccando qui nel menu superiore, clicchiamo su Proxmox Virtual Environment, ISO Images e scarichiamo l'ultima versione di Proxmox. Possiamo scegliere se scaricarlo in formato torrent oppure con download diretto. Io scelgo il download diretto. Al termine del download inseriamo una chiavetta USB da qualche gigabyte, la formattiamo, apriamo Rufus, selezioniamo la nostra immagine ISO appena scaricata, lasciamo tutto a default e clicchiamo su avvia. A termine del flash della ISO sulla chiavetta USB la rimuoviamo, la inseriamo all'interno del nostro pc o del nostro server e avviamo l'installazione. Dopo aver buttato il sistema operativo Proxmox attraverso la chiavetta welcome screen selezioniamo install Proxmox V. In questa schermata accettiamo l'end user license agreement, selezioniamo l'hard disk di destinazione, io scelgo devsda, digitiamo il country, nel nostro caso Italy, scegliamo la nostra time zone Europe Rome e il keyboard layout resta Italian. Successivamente clicchiamo su next. Nella pagina di registrazione delle password, inseriamo una password e all'interno di email inseriamo un indirizzo email affinché Proxmox ci possa inviare delle comunicazioni. All'interno della schermata management network configuration selezioniamo la nostra interfaccia di rete, inseriamo un hostname, di solito viene preimpostato, il mio suffisso è fritz.box avendo un fritzbox, però qui lo rinomino e metto my server e assegno un indirizzo IP statico che nel mio caso sarà 192.168.1.19-24 in quanto la mia rete si trova in classe C. Come gateway lascio a default 192.168.1.1 e il DNS server lascio quello del router, ossia 192.168.1.1.1. qui ovviamente lo potete anche modificare, potete inserire quelli di Google o quelli di Cloudflare ad esempio. Clicchiamo su next, ricontrolliamo il riepilogo dell'installazione e successivamente dopo aver lasciato per default automatically reboot after successful installation clicchiamo su install. A seguito del primo riavvio selezioniamo Proxmox Virtual Environment GNU Linux dalla schermata di Grab. Successivamente ci ritroveremo di fronte a questa welcome screen. Da questo punto in poi possiamo scegliere se spostarci direttamente su una pagina web, quella linkata qui su, ossia 192.168.1.19.2.8006 in HTTPS oppure fare l'accesso qui e dare i comandi per amministrare il nostro server. Noi andiamo su un browser, inseriamo quell'indirizzo. Ok, quello che vi ho fatto vedere fino ad ora è una base di setup eseguita all'interno di VirtualBox. Vi posso garantire che il processo di installazione è il medesimo anche su una macchina fisica. Adesso siamo invece sul mio server, server che ha un differente indirizzo IP e un differente username. Vi farò vedere un po' come l'ho impostato e che cosa ci faccio personalmente con il mio server Proxmox. Facciamo il login. Ok, ed eccoci qui. Questa qui praticamente è la schermata, l'interfaccia di Proxmox. Nella parte laterale abbiamo la view organizzata in datacenter e in nodi. Il mio datacenter è composto da un singolo nodo, da un singolo server. All'interno del server ci sono diverse macchine virtuali e diversi container. In particolare io ho due container LXC in cui stanno girando in questo momento un server di OpenHub per il mio impianto domotico e un server MQTT sempre per il mio impianto domotico. Qui ho altre macchine virtuali, alcune delle quali sono spente in quanto non più utilizzate. Qui ho una macchina su cui sostanzialmente gira un server di Samba, nella quale faccio archiviazione di dati. Qui è presente anche Transmission e anche Plex, sul quale archivio i miei film personali e le mie serie TV. MacOS Server è una macchina virtuale su cui gira MacOS ed è utilizzata sostanzialmente per il ciclo di Continuous Integration e Continuous Delivery dei software realizzati per MacOS e per iPhone e iPad. Sostanzialmente la utilizzo per poter far girare i test di integrazione e le fasi di build delle applicazioni e dei prodotti realizzati appunto per le varie piattaforme Apple. Ho una macchina virtuale con Windows che utilizzo veramente poco. Docker Server essenzialmente si comporta come MacOS Server, ha un'istanza di Docker all'interno la quale viene poi utilizzata da parte di GitLab per runnare dei daemons ed eseguire diversi processi di Continuous Integration e di Continuous Delivery. Dunque all'interno di questa schermata possiamo anche notare i due storage system, local e ride. local sostanzialmente è l'SSD che vi ho fatto vedere in fase di installazione da 250 GB e storage invece è il RAID 5 dei tre dischi da 6 TB. Qui nel summary possiamo vedere l'utilizzo, 4 TB di 11 circa, per local invece lo spazio è inferiore. Caricare le immagini per poter eseguire un'installazione è abbastanza semplice, basta spostarsi nella sezione ISO images del menu laterale, cliccare su upload, selezionare il file, andare nel punto di interesse, io vado su download, selezionare la ISO e fare upload. Il processo è abbastanza rapido in quanto vi troverete di fatto all'interno della vostra rete locale. All'interno della sezione summary del nodo praticamente possiamo tenere sott'occhio la CPU usage. Qui abbiamo anche dei grafici sull'andamento, sull'utilizzo giornaliero e orario della nostra macchina. Abbiamo un'altra serie di informazioni sulla CPU, la versione del kernel, la quantità di memoria disponibile e utilizzata, lo swap e il delay da parte dell'IO, quindi dei dischi fissi all'interno del sistema. Attraverso Shell possiamo accedere direttamente alla nostra macchina piuttosto che farlo attraverso SSH o mettersi fisicamente davanti al server o al PC. Possiamo fare l'accesso e utilizzare appunto la Shell per fare qualsiasi cosa. Attraverso questo pannello laterale possiamo configurare tutto il nodo, possiamo anche eseguire gli aggiornamenti disponibili, io ne ho un bel po' da fare. All'interno di disks possiamo vedere lo stato dei nostri dischi, c'è anche il test smart per quanto riguarda invece i dischi meccanici. Qui possiamo impostare anche altre configurazioni, altre impostazioni come la replication. Solitamente la replication si fa con altri nodi, quindi potete sostanzialmente avere più nodi all'interno di un'istanza di Proxmox per far sì che appunto il server scali su diverse installazioni. Qui ci sono diverse task history, quindi sulle operazioni che ho fatto durante questi giorni viene tutto logato e anche qui abbiamo informazioni sul syslog, ad esempio sul... possiamo accedere velocemente alle informazioni del sistema operativo, qui abbiamo gli host, i DNS utilizzati, eventuali certificati e la configurazione network del nodo. Prendo velocemente qualche macchina, prendo il macOS server, essenzialmente la singola macchina mostra quasi tutte le stesse voci che potremmo visualizzare all'interno del nodo, abbiamo il summary quindi con le informazioni, abbiamo dei grafici sull'utilizzo della rete, della CPU, della memoria e dell'hard disk, del supporto di memorizzazione. Possiamo modificare le impostazioni hardware eccetera e possiamo anche utilizzare la console, vi faccio vedere qui c'è un'istanza di macOS che posso lanciare tranquillamente. Oppure vi faccio vedere ad esempio un LXC container come questo di OpenHub, essenzialmente le risorse allocate sono inferiori rispetto a quelle di macOS. Possiamo lavorare direttamente sulla console e possiamo andare ovviamente modificare quelle impostazioni che modificheremo anche per il nodo come ad esempio la configurazione network, determinate opzioni sulla configurazione del nodo LXC e la stessa cosa si può fare tranquillamente anche per le macchine virtuali, non solo per i nodi LXC. Qui possiamo vedere una lista di aggiornamenti che sono stati eseguiti, avrò lanciato una ptgetupdate qualche giorno fa. Possiamo anche fare degli snapshot così come potremmo fare tranquillamente attraverso altri software di virtualizzazione. Chiaramente è snapshot che è vincolato alla tipologia di disco virtuale che andate a creare, ci sono diverse tipologie di dischi virtuali. Non voglio dilungarmi molto su queste cose, magari fatemi sapere con un commento se appunto volete approfondire l'utilizzo di Proxmox più nel dettaglio, magari farò un video a parte. Vi faccio vedere giusto come creare eventualmente una macchina o un container, basta andare qui selezionare il nodo e qui in alto cliccare, in alto a destra, create VM o create CT. Anche qui non voglio andare troppo nel dettaglio nel spiegare che cos'è un container LXC, vi dico semplicemente che la macchina virtuale, per farla breve, utilizza risorse in maniera differente rispetto a un container, ha un approccio leggermente diverso. Come vi dicevo precedentemente basta fare clic su create VM, inseriamo un nome, ad esempio la chiamo test, possiamo fleggare se avviarla al boot o meno, decidere il sistema operativo da installare, il sistema operativo che può essere installato ad esempio attraverso un'immagine ISO, possiamo ad esempio selezionare un sistema operativo dall'elenco di quelli che abbiamo caricato, qui possiamo selezionare il kernel, la tipologia di sistema operativo. Successivamente possiamo decidere che tipologia di scheda grafica virtualizzare, il tipo di controller, se utilizzare un controller SCSI di tipo Virtaio e SCSI, oppure altre tipologie di controller, il tipo di BIOS, possiamo scegliere anche se virtualizzare in Wifi mode, il tipo di macchina, la quantità di spazio da allocare, la tipologia di disco da virtualizzare, se SCSI, ID, SATA o Virtaio, la modalità di salvataggio del disco, se QK, RAW o VMDK, la tipologia di cache ad esempio, la quantità di CPU da allocare alla nostra macchina virtuale, eventualmente scegliere se abilitare determinati flag extra da passare alla CPU, queste dipendono strettamente anche dall'hardware che avete scelto in fase di installazione fisica della macchina e per ultimo impostare anche una quantità di memoria da allocare, sfruttare ad esempio il ballooning per ottimizzare magari la quantità di memoria da distribuire all'intero ecosistema e eventualmente configurare anche una scheda di rete differente rispetto a quelle di default. Per quanto riguarda invece i container, il processo è leggermente diverso, solitamente si specifica un hostname, una password per poter accedere appunto in SSH, generalmente i template disponibili sono immagini già pronte per Linux, io qui per esempio ho diversi template di Debian o di Ubuntu, ne possiamo scegliere uno a caso, successivamente anche qui impostare la quantità di spazio da allocare e successivamente la quantità di risorse in termini di core della CPU. Lo stesso dicasi anche per la memoria, possiamo allocare una quantità di memoria e una quantità di swap. Anche qui ad esempio possiamo personalizzare la tipologia di scheda di rete e eventualmente definire anche dei DNS. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, se avete dubbi, domande o perplessità non esitate a lasciarmi un commento qui sotto, sarò felice di rispondere alle vostre domande, se il video vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanellina per restare puntualmente aggiornati sulle nuove uscite e sui nuovi video. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima! Ciao!